Si è svolta nella consueta cornice del villaggio Guielmo di Copanello la tredicesima edizione del premio Fedeltà al lavoro e progresso economico, promosso dalla Camera di Commercio di Catanzaro. Nato negli anni 50, il premio vuole essere una testimonianza della tenacia e dell'ingegnosità di quelle persone, tra imprenditori e personale dipendente, che all'interno del sistema produttivo con il loro lavoro hanno determinato fattori di incremento economico sul territorio. Presente una nutrita rappresentanza istituzionale ai più alti livelli, nazionale e locale, compreso il presidente della regione, Agazio Loiero, oltre al sindaco della città e al presidente della provincia. Anche quest'anno il premio Fedeltà al lavoro ha onorato la memoria di personalità scomparse, tra cui Antonia Critelli, l'anziana commerciante barbaramente assassinata durante un tentativo di rapina, Salvatore Blasco, magistrato e padre dell'Università Magna Grecia, e Tommaso Colloca, insigne musicista Lamettino.